Sì, proprio strano, no? Missione 1 completa! Ciao a tutti, oggi siamo ad Osaka. Vedete questa torre? Indovinate che cos'è? Questa torre di nuova religione. Questa religione si chiama PL, Perfect Liberty, quindi libertà perfetta. Questa altezza è 180 metri, eh? Più alta di quella torre di Osaka, Tsutenkaku. Proprio alta, anche proprio particolare come hanno costruito. Questa torre è molto molto famosa per gli osaganesi, anche quando ero piccolo già conoscevo. Però tutti voi forse non l'avete mai vista, quindi ve la facciamo vedere fin dove è aperta al pubblico. Ok, andiamo! Allora, andiamo. Vedete? Proprio strano, no? Sì, io appena l'ho vista la prima volta sono rimasta, pensavo fosse tipo un parco divertimenti, dico la verità, qualcosa del genere. Altissimo è qui. Oggi fa freddissimo, non c'è nessuno, solo noi. Sì, infatti l'atmosfera è un po' tetra. Sì, triste. Perché terra è proprio gigante, perché anche qui, tanti anni fa c'era parco divertimento. Però 1989 è chiuso. Io sono nato 1989 a aprile, quindi non l'ho mai visto, purtroppo. Però era proprio grande. Anche guardate, ci sono tanti vetori, eh? E poi, tanti anni fa, potevo salire fino a quella seconda parte. Mi ricordo, sono salito fino a un certo punto. Mi dicevi che qua c'è una scuola. Sì, dall'asilo fino al liceo, se non sbaglio. Sì. E poi, quello al liceo è baseball, era proprio forte. Si chiama P.L. Gakwe. È famosissimo. C'erano due giocatori proprio famosi. Ah, c'è scritto alle quattro chiude. Vedete? Gigante. Questa torre è stata costruita come un memoriale per le anime di tutti i caduti nella storia e come un monumento alla preghiera per la pace. Ha questa forma allungata, si dice, la verità è una, perciò così. Adesso andiamo avanti e vediamo intorno come e poi entoriamo. Andiamo. Wow, però, guardate, ci sono solo le scale. Eh, così è pericolosissimo. Facciamo un giro, sicuramente c'è un'altra entrata. Sì, sicuramente c'è un'altra entrata, ovviamente i anziani, i disabili, come fanno. Sì, ci sarà un'altra entrata segureta. Ci sono tanti monumenti particolari, diciamo, strano. Magari adesso è così tetro anche perché è inverno, quindi tutti gli alberi sono spogli. Magari in primavera non sappiamo che alberi sono questi, magari sono Sakura. Sì, sì, sì. Anche qui, per noi è molto famoso questo P.L. Tutti conoscono ad Osaka perché c'era festival di fuochi d'artificio. Molto famoso. Era numero uno del mondo. Era così gigante. Però, l'ultima volta che hanno fatto 2019, però dopo quello c'è stato quello problema mondiale, diciamo, sì. Quindi adesso non fanno più. Era proprio bellissimo. Facevano tanti fuochi, tipo 100.000 se non sbaglio. E poi ogni anno stavano diminuendo. Alla fine, proprio tipo sera, però faceva come giorno. Non sono esagerato, è proprio era così. Bellissimo. Quindi peccato. La pupetta l'abbiamo bardata bene. Sì, anche anti-vento. Proprio perfetto così. Non sente niente, perciò sta dormendo bene. E invece noi... Mamma, ci fa freddo. Sì, oggi proprio fa freddissimo. Prima nevicava un po'. C'è scritto, però, sono entrato per gli staff. Dai sì, c'è scritto, è stato fatto da un tedesco. Comunque, vedete? Così, sembra che ci stiano spiando, eh? Un po' paura, eh? Sicuramente ci spiano. Eh sì. Perché ci siamo solo noi qua. Eh, dobbiamo entrare da lì. Dobbiamo salire, no? Eh sì. Sì, chiediamo a lui se c'è un ascensore. Ah sì. Niente, non si è fermato. Volevamo chiedere a questa persona, a questo signore. Ci ha ignorato. Sì, si vedeva proprio che ci ha ignorato. Faceva finta di guardare avanti. Ci sono due persone strane. E con una bambina. Forse robot la bimba. Guardate queste scale. Questa è missione uno. Prima missione. Salire con passeggino tante scale. Mamma mia. Eh, mamma mia, tu non fai niente, scusa. Se lo dice così, mamma mia. E devo fare tutto io. Prima che facciamo questa cosa, vediamo qui intorno se c'è qualcosa. Proprio oggi, vento forte, temperatura bassa, proprio freddo. Anche lì non sembra c'è posto per salire. Vedete, qualcuno sale qui. Paurissimo, eh. Io non ce la faccio. Sì, proprio storano, no? Come l'altro mondo. Stranissimo. Dai, saliamo. Però almeno sono basse le scale. Non è tanto difficile. Hai fatto prima tu di me. Missione uno. Completa. Fortissimo vento qui. Allora, siamo usciti. Non potevamo fare tante foto o video dentro. È vietato. Adesso qui fuori fa troppo freddo. Iniziate a nevicare, quindi torniamo a casa e vi spieghiamo come dentro. Vedete così? Proprio gigante, Torre. Gli staff dicevano ci saranno tanti sacchi ad aprile o fine marzo. Quindi ci torniamo. Fredissimo. Torniamo a casa. A dopo. Allora, siamo tornati a casa. Ti è piaciuto la torre? Piaciuta non è proprio la parola esatta. Diciamo che è qualcosa di particolare che incuriosisce. La sua struttura incuriosisce sicuramente. A me la forma esterna ricorda gli insetti. Non so perché, ma quelle finestre messe in quel modo mi ricordano un po' gli insetti. Molto particolare, no? Sì, sì, molto molto particolare. Secondo me è stato ispirato da qualche artista europeo. Forse, non lo so. Sentivo un po' qualcosa di europeo, un pochino. Sicuramente non è una struttura tradizionale giapponese quella, ma sicuro. Comunque per quanto è particolare l'esterno, l'interno invece mi ha un po' delusa, francamente. Eh sì, perché abbiamo visto solo il primo piano e poi il secondo piano. Non siamo saliti. Sì, sì, abbiamo visto solo i primi due piani, quelli aperti al pubblico. Però la hall era un po' triste, non so, tutta grigia, così grande, un po' vuota. Mi ha dato un senso un po' di solitudine, ecco. È perché adesso molto meno gente che va. Ah, sì, sì, sì. Sì, perciò non c'è niente. Perché anni 70-80, quando c'era rapida crescita dell'economia giapponese, era molto praticata questa religione. Anche c'erano tante persone che visitano quello torre. Comunque sì, la hall era un po' triste, mentre il tempio, la sala delle cerimonie, non so come chiamarla, che si trovava, diciamo, il secondo piano, però era più un soppalco del primo piano. Era come una stanza soppalcata. Quello era sì particolare, non dico bello perché non era wow, però era particolare. Ed era molto stile anni 70-80, richiamava molto quell'epoca. Molto particolare però non potevamo fare foto all'interno. Se riesco vi metto qui un disegno di più o meno di come era fatta, vediamo se ci riesco. Pensavo fosse più grande dove pregare, però era piccolo, no? Sì, sì. Massimo magari 20-30 persone possono entrare. Era molto raccolta come sala. E appena è entrato nell'ingresso, una dipendente si è avvicinata e ci ha detto che avrebbe guidato la nostra vista al salone cerimoniale al secondo piano. Al primo piano, oltre agli uffici del personale, c'erano monumenti unici, specchi, sedie, scrivanie e spiegazioni. In passato era possibile salire fino alla cima della torre, ma ora si può arrivare solo fino al salone cerimoniale al secondo piano. Inoltre all'interno della torre è vietato scattare foto, soprattutto per usarli sui social. Alcune cose le puoi fotografare se le tieni come ricordo personale. Mentre sui social non si possono pubblicare per una questione di diritti. Noi abbiamo chiesto per alcune cose, c'è stato possibile fotografarle, ci hanno dato il permesso quindi di mostrarvele, altre no. Come per esempio il salone cerimoniale e alcuni monumenti anche, non è stato possibile. Questa torre è stata costruita come un memoriale per l'anime di tutti i caduti nella storia e come un monumento alla preghiera per la pace. La verità è una, perciò la forma è così. La signora ci ha anche spiegato che il colore della torre è stato scelto un colore così semplice il bianco per evitare che la gente avesse paura di recarsi in questo posto. Perché se avessero scelto ad esempio dei pois, di mettere dei pois sopra la torre... Sì, veneroso. Sì, magari la gente avrebbe avuto un po' di paura, no? Quindi sono rimasti su una cosa molto semplice perché ha spiegato che il loro scopo è quello appunto di divulgare il nome della pace. Vi ricordate che vi ho mostrato un piccolo finestrino con le scale sul torre? Lì chi pulisce possono entrare, no? E poi la signora diceva in cima, proprio cima, puoi uscire. Sì. Tipo fino a qui, no? Sì, puoi fare così. Come per Mario. Sì, e poi puoi fare così. La signora ha detto no grazie per me. Neanch'io no grazie per me. Troppo paura. È molto alta, sì. Sicuramente c'è un gran vento lassù. Eh certo, è 180 metri, è alto, paurissimo. E poi ci ha spiegato che per rifare il colore della torre costa tantissimo, proprio tanto. Ci credo. Anche ha detto già si vede da vicino un po' rovinato, però da lontano proprio bello, bianco, non si vede. Poiché questa torre è stata costruita prima che fosse emanata la legge sugli edifici antisismici in Giappone, il governo di Osaka si è recato lì per chiedere effettivamente se questa torre fosse a norma, se fosse capace di resistere a un sisma di magnitudo abbastanza elevato. In Giappone in tanti anni stiamo dicendo che arriverà quello proprio gigante terremoto. A Osaka? Sì, a Osaka, no, vicino a Osaka, tutta parte a Oceano arriverà questo terremoto gigante, sì. La signora ha detto che hanno controllato, in realtà è ancora perfetta a livello architettonico. In più ha detto che può resistere a una magnitudo 10. Oddio, questo, se l'hanno constatato loro, ci credo, però... In passato in questo sito c'era un enorme parco divertimento chiamato PL Land, che ha chiuso i battenti nel settembre del 1989. La signora ci ha spiegato che era situato dove adesso ci sono i bungalow per fare camping. Anche ci diceva che facevano light up il giorno dei fuochi d'artificio. Mi ricordo questa illuminazione, anche i fuochi d'artificio erano molto belli. Alla fine dei fuochi il cielo diventava come quello del giorno, proprio giorno. Ed era molto famoso per questo. In passato era considerato il numero uno al mondo per il numero di lanci. Ma negli ultimi anni il numero di lanci è diminuito. Peccato che non li stiano facendo più per il momento. La signora poi ci ha spiegato che il secondo patriarca di questa religione aveva la filosofia che la vita è un'arte. E il suo pensiero era che se l'opera d'arte che hai creato è fatta senza cuore e senza impegno, non sarà mai soddisfacente. Allo stesso modo se la tua vita quotidiana è vissuta senza cuore e senza impegno, non potrà mai essere soddisfacente. Quindi la tua vita è la tua opera d'arte. Poi ci ha anche spiegato che la terza patriarca è morta ed ancora non si sa chi diventerà la quarta. Però anche lei non sa come avviene questa successione, come viene decisa. Questa cosa per noi era un po' strano, no? Perché non si sa? Un po' segreto. Eh sì. O magari sanno, però non possono dire. Sì, magari sì. Secondo me tante cose non ce le ha spiegate, non ce le ha dette. Comunque a causa di questa non successione ancora avvenuta, lei ci ha spiegato che ogni giorno pulisce tutti i piani della torre perché non sa quando arriverà appunto questa successione e cosa deciderà questo nuovo patriarca, se di nuovo riaprirla al pubblico o no, come era un tempo d'altronde. Anche dei fuochi d'artificio, dicevano, no? Non si sa quando inizieranno. Quindi comunque loro devono essere pronti. Però quando riguarda dei fuochi d'artificio, lei ha detto almeno prima di un anno devono preparare tutto. Ci mette tanto tempo per preparare. Quindi prossimo anno non ci sarà secondo me. Secondo me questa religione nuova rispetto alle altre ha molto meno sollecitazioni. Anche non ho mai sentito che qualche mio amico è stato sollecitato o gli è stato fatto qualcosa di brutto. E le ho chiesto perché è così. Mi ha risposto, a causa dell'insegnamento per il quale non si deve fare ciò che è spiacevole agli altri. Non ci sono sollecitazioni forzate. Così sembrano gentili. Ma può essere che se entorriamo sarà diverso. Beh sì certo, noi siamo andati lì per la prima volta. Questa era una presentazione. Quindi è normale che ti spiegano solo le cose positive, le cose buone, la filosofia buona della religione. Certo non ti spiegano i problemi legati appunto al culto. Quello che c'è dietro, il vero culto, il totale del culto, non lo conosciamo. Perché appunto ovvio che non ce lo spiegano a noi che siamo degli sconosciuti. Adesso con telecamera, vi ricordiamo. Scherzo. Come vi è sembrato? Conoscevate questa torre? Il concetto principale di questo video non stiamo negando la religione. Naturalmente abbiamo una visione negativa delle religioni e delle attività che coinvolgono atti criminali, disturbo alle persone o inganni. Ma per quanto riguarda le religioni che vengono praticate seriamente, crediamo che sia fondamentalmente è una questione di libertà personale. E se ciò porta salvezza a qualcuno, allora è una cosa buona. In Giappone ci sono molte nuove religioni. Quindi fate attenzione a non essere ingannati. In particolare si avvicineranno a voi quando siete vulnerabili. Questo video è stato un po' particolare. Speriamo che vi sia piaciuto. Ok, se vi è piaciuto questo video mettete un like ed iscrivetevi a questo canale. Anche seguite i nostri social net per favore. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Ho na! Ciao!